Buonasera, buonasera a tutti, bentornati qua su Pensiero Tondo, l'unico podcast da ascoltare sempre fino in fondo. Ciao a tutti, buon Natale, buone feste a tutti voi, a tutte le vostre famiglie, avete mangiato bene, vi siete abbuffati immagino. Comunque, come stiamo? Oggi episodio speciale, vi abbiamo fatto un regalo di Natale, abbiamo qua un grande ospite, che sono io? Esatto, con immenso piacere abbiamo qua Walter Zanardi, quindi benvenuto, grazie di essere con noi. Grazie a voi dell'invito. Allora, non so, Marti, ci siete, dottore ci siete, siete carichi? Io sono estremamente emozionato perché, vabbè, adesso faccio uno spoiler, il nostro ospite Walter Zanardi è stato un neurologo, quindi come non posso essere emozionato io, il dottore di Pensiero Tondo, avere un collega, un uomo di scienza al cospetto, che per me è veramente una grande emozione, al di là di quello che poi è attualmente Walter Zanardi nel web, di cui parleremo durante questa diretta. Ma serve un abito più consono, quindi perdonatemi se vado un attimino nel mio guardaroba, torno subito. Vada, vada. Allora, dunque, quest'oggi affronteremo vari temi, sempre riguardanti il mondo degli audiolibri, perché il nostro ospite Walter Zanardi si occupa di questo, si occupa di letture, potete trovare il suo canale YouTube, mettiamo il link dopo nella chat, quello mettiamo anche in descrizione quando verrà pubblicato il video e in pratica affronteremo questo tema. in grafica, proprio sul riquadro di Zanardi, c'è il nome della pagina YouTube, quindi chi vuole, basta che digiti esattamente Walter Zanardi letture e lo trova immediatamente. Esatto, esatto. Quindi insomma, se qualcuno non l'ha mai sentito, andate, sentite le sue letture perché sono davvero fatte bene. Io stesso ho ascoltato diversi audiolibri, ricordo quelli di Dostoevsky, che sono molto piacevoli da ascoltare, specialmente a me piace ascoltarli quando sto per andare a dormire. È un po' come se qualcuno si posiziona accanto a me, mi racconta la storia, ed è bello perché comunque è anche un momento di conforto, di calore. Quindi, bando alle ciance, quindi eliminando questo momento che comunque è doveroso, inizierei con la prima domanda per rompere il ghiaccio, ma chi è? Quindi Walter Zanardi e come è nata la passione per gli audiolibri? Prego. Oh, aspetta, aspetta, ci sono anch'io, eh. Aspetta, eccomi qua. Eccomi qua. Buonasera a tutti. È bene sì, è bene sì. Avevamo iniziato così bene, dobbiamo degenerare. Ma come? Il dottore esce il naso, dottore, per la prima volta. Come nascono le passioni? Tanto è importante che nasca una passione, no? Cioè, voglio dire, è molto importante per noi avere o trovare una passione nella vita, qualcosa che ci tenga. Anche al di là del lavoro, insomma, il lavoro può essere una passione, ma anche poi c'è questo senso del dovere, del senso del... perché bisogna farlo, no? Mentre la passione è una cosa che si sceglie e si fa perché la necessità è tua, insomma, no? Certo. La passione mia nasce molto da lontano, dal fatto che ho avuto la fortuna di avere un maestro che ci leggeva negli ultimi dieci minuti, in quarto d'ora, mezz'ora, prima di uscire da scuola, ci leggeva dei libri, no? E mi ricordo ancora cosa ci leggeva, insomma, ci ha letto ovviamente Cuore, Pinocchio, Le lettere di San Paolo, Mabel tra gli Eschimesi che è un libro che non conosce nessuno, ma insomma, ci leggeva dei libri e questo ci faceva quasi rimpiangere il campanello, insomma, era bravo, ci teneva, insomma, era una bella cosa, insomma, no? E poi, insomma, questa passione per le storie, mi è venuta quando avevo i bambini piccoli, insomma, adesso quello a cui leggevo le storie a 45 anni, quindi, insomma, un po', ma quando era piccolo io gli leggevo prima che si addormentasse le fiabe di Calvino, che sono una cosa meravigliosa, nel senso che sono un libro che consiglio a tutti i genitori di leggere ai loro figli, insomma, no? Anche perché ha una scrittura tale che il bambino proprio l'accoglie molto... e qualche volta tornava a casa allo stanco, insomma, non aveva voglia di leggere una favola, e allora magari leggevo una favola che l'avevo letta l'anno prima o due anni prima, e lui mi disse, ma no, ma questa me l'hai già letta, e io gli ho detto, ma no, non è possibile, non me la ricordo io, ma come fa? E lui mi diceva esattamente come aveva fatto, come cominciava, come finiva, quindi, insomma, era una cosa che entra, che entrano quando si è bambini, quindi c'è bisogno di questa cosa orale, no? Abbiamo bisogno di storie, insomma, la vita nostra è fatta di storie, insomma, servono per vivere e per sopravvivere. E quindi, poi così, insomma, poi ho avuto un momento, insomma, anche un po' difficile nella mia vita dal punto di vista fisico, insomma, così, di un po' di sofferenza. In questo momento, per esempio, mi è stato molto d'aiuto, devo stare a letto, eccetera, eccetera, mi è stato molto d'aiuto ad ascoltare storie, la radio, insomma, non riuscivo a vedere la televisione, perché, insomma, ero... e quindi la radio è stata un momento molto importante e lì sono passati, passavano queste storie. Citavo ieri, per esempio, queste puntate di Baricco, insomma, di furore, insomma, che mi hanno appassionato e mi hanno tenuto, quindi le aspettavo ogni sera, insomma, così. E da lì anche ho cominciato a leggere io, insomma, a leggere poesia, a registrarmi, ovviamente a farlo per conto mio, insomma, ma cercavo di leggere, insomma, perché era anche un motivo per, come dire, per trovare qualcosa da fare, quando stai male, quando fai fatica a stare in piedi, insomma, era una cosa che mi tenevo occupato e quindi ho letto, insomma, soprattutto ho letto poesia, perché poi magari se volete parliamo, ma c'è anche... il problema è che adesso gli audiolibri funzionano perché... perché c'è anche l'MP3, insomma, che permette di avere dei contenuti lunghi. Una volta, 25 anni fa, per esempio, c'era soltanto il registratore, insomma, e quindi potevi leggere soltanto delle cose brevi che stavano in una cassetta, insomma. Certo, a tal proposito mi viene in mente il fatto che con l'MP3 uno può anche ascoltare qualsiasi cosa, anche in macchina, anche mentre corre, mentre passeggia, e quindi è un grande vantaggio questo, sicuramente. Io registro i porno. Anche il telefonino, perché tu l'MP3 lo ascolti dal cellulare, quindi una volta c'era l'apparecchietto per l'MP3, c'era il lettore di'MP3, no, mettevi solo quello. Adesso col telefonino puoi fare tutto e poi ascoltare. E soprattutto hai la possibilità di caricare un'MP3 ore e ore, insomma, no, di ascolto, che è il tempo di ascolto di un romanzo, insomma. Poi mi sono abituato, per esempio, a contare i tempi di un libro, non più dalle pagine, ma dalle ore di durata della lettura di un libro, no? Cosa che sembra strano. No, in realtà, cioè, io lo so bene, perché essendo abituato a roba del genere, che questo in realtà, un libro del genere, che io ce l'ho sempre a fianco che è bellissimo, che sono i principi di neuroscienza di Kander, che secondo me lo leggi in molto meno tempo di un qualsiasi altro libro, come un trattato di anatomia, in cui ad ogni pagina ti scendono giù le palle, francamente, proprio dritto per dritto. Quindi è vero, è vero. Secondo me il libro non va tanto contato dalle pagine, ma quanto tempo impiega a leggerlo? In base a quello, ti rendi conto? E la percezione che avevo prima era che leggere un libro, il nome delle rose, si volesse un tempo enorme, e poi mi sono reso conto che invece in dieci ore tu ad alta voce lo leggi un libro di quella dimensione, per esempio, no? Quindi hai un altro metro di misura per il tempo del libro. Ma ecco, quindi da qui, insomma, la passione, che poi è andata, che poi non era solo la passione della lettura, era la passione di fare qualcosa, insomma, anche dopo quando sono andato in pensione, no? Di continuare a fare un qualcosa che mi tenesse... Quindi avevo due opzioni, dicevo, una era quella di suonare, nel pianoforte, insomma, no? Al quale ero arrivato a un diploma un po' così, con un po' di sforzo, perché non ho una mano piccola, non ho un grande talento pianistico, insomma, però mi piaceva, è stata la mia passione durante tanti anni della mia vita, e anche non solo il pianoforte, ma anche l'ascolto della musica, no? E quindi c'era questa passione che però, insomma, un po' anche negli ultimi anni così, ti lega a una situazione che fai da solo, perché intanto è molto difficile trovare qualcuno con cui fare musica insieme, e fare musica insieme invece è un'esperienza molto bella, che consiglio a tutti, insomma, quella di fare musica insieme, musica da camera, è una cosa bellissima. Sono d'accordissimo. Però poi, quando suoni da solo, tu ti fai un repertorio, che è quello, insomma, così. Io ho fatto anche un canale di YouTube, dicevo, c'è ancora un mio canale di YouTube, avevo postato, non so, 500 brani che ho suonato, che venivano dall'esame che avevo fatto, così. Ma tanto per fissare un punto, poi però a un certo punto ti stanchi, perché non riesci a creare una comunicazione attraverso quella musica, no? E poi la musica che, come dire, man mano che YouTube è cresciuto, sono entrati musicisti veri, si confrontano con musicisti veri, quelli che suoni tu e capisci che sparisci, no? Perché uno va a sentire chi suona bene e non viene a sentire te, no? E quindi, così poi, per tentativi vari, scoprendo il mezzo YouTube, insomma, sono arrivato un po' alla volta verso questa cosa, insomma, verso la lettura ad alta voce, insomma, no? Che riguarda un po' tutto, dalla poesia ai monologhi, alla letteratura, a vari tipi di letteratura, ai discorsi, insomma, ho letto un po' di tutto. Io ho seguito di farmi un'esperienza sul mare magnum di tutto quello che può essere, ai saggi che può essere leggibile. Ovviamente ogni forma richiede anche un atteggiamento, un approccio anche diverso, e quindi questo cerchi di farlo man mano con l'esperienza che ti fai e queste cose. E questo, visto che poi, insomma, cioè in questa cosa che diventa una passione, poi riesci a stabilire anche un legame con le persone, insomma, no? Riesci ad avere una comunicazione, quindi non fare più una cosa solo da solo e solo per te, no? È bello fare anche una cosa per sé, ma quando si va avanti su una cosa, per poter durare, c'è bisogno anche di comunicarla, no? Di farti sentire in comunicazione con chi la fruisce, di avere un feedback, insomma, bene o male, no? E questo, visto che un po' alla volta nel tempo ha funzionato, insomma, per alcuni c'è stato un rifiuto, per altri invece parecchi, insomma, hanno risposto bene a queste cose ed è cresciuta nel tempo, insomma. Poi, dicevo, io sono un solitario per cui ho fatto queste cose assolutamente da solo, senza collaboratori, ma anche senza mai spendere un soldo per promuovere quello che facevo, insomma, no? Perché ho il vantaggio di farla per passione rispetto agli altri, quindi cioè per, come dire, senza scopi di lucro, insomma, non ho bisogno di farmi una carriera in questo senso, né di crearmi un futuro, ho soltanto bisogno di trascorrere più serenamente possibile un tempo di vita che ti resta, insomma. E questo, e poi un'esperienza, un consiglio a farlo, cioè chi ha del tempo da poter fare, è un'esperienza bella quella di leggere ad altra voce, ti permette anche di capire meglio la letteratura, insomma, di avere un approccio più, come dire, più diretto anche al senso estetico del libro, non soltanto alla storia, ma anche come questa storia viene raccontata, viene narrata, quindi allo stile, già dalle prime pagine, insomma, quando cerchi di entrare in quel testo, apprezzi, insomma, la scrittura, la scrittura per il valore della scrittura, per come dice le cose e non soltanto per quello che dice, insomma. E quindi è una cosa bella che può fare, tra l'altro, una cosa che può fare chiunque. Questo sempre però, tra virgolette, però, perché sembra facile, e in realtà, insomma, perché non richiede, no? Cioè, mentre il pianoforte richiede una tecnica, richiede tutto uno studio per acquisire una meccanica, nella lettura sembrerebbe di no, per riparlare siamo capaci tutti, leggere siamo capaci tutti, e quindi prendere un libro e leggerlo sembrerebbe una cosa. In realtà, poi, ha delle complessità, delle raffinatezze, ha delle cose, quando si legge per gli altri, che bisogna considerare, insomma, e che difficoltà che quindi vanno superate. Però, riuscendo a superarle, è un'esperienza bella. Certo, certo. A tal proposito, mi è venuta in mente una domanda sulla realizzazione dell'audiolibro. Come si realizza? Cioè, se adesso io decidessi di leggere un libro, di realizzare comunque un audiolibro, che tappe devo seguire? C'è un iter prestabilito? È un qualcosa che lei sapeva già fare, o ha imparato col tempo? Ah no, ha imparato col tempo e sempre con l'esperienza, per cui le cose che facevo all'inizio sono delle cose squallide, e un po' alla volta che migliori al tempo, è stato poco da fare, no? C'è un problema di tecnologia che devi usare, e devi saperti destrezzare un po' con i programmi, con il software, insomma, e poi anche con la tecnologia, insomma, con i microfoni, con... E poi... Ancora noi non ne siamo in grado, bene, cioè noi facciamo un sacco di errori con microfoni, non microfoni, ecco con ecco, ancora... Cioè, la capisco molto bene, perché questo problema con il microfono, ce l'ho anche io, e proprio empatizzo molto. La gente è diventata molto delicata da questo punto di vista, quindi quando c'è un crepitio, quando c'è una piccola cosa, te la fanno subito notare, ti fanno... Poi c'è un problema nella conduzione della voce, insomma, no? La voce va appoggiata al diaframma, quindi c'è una tecnica di respirazione. C'è una stanchezza che viene nella lettura, cioè è una cosa faticosa, cioè leggere tanto, quando cominci a se leggi due ore al giorno, è già tanto, c'è una fatica, quindi che bisogna imparare a superare, cioè più, come dire, peggio leggi, più ti affatichi anche la voce, insomma, no? Quindi la lettura deve essere rilassata, deve essere... E poi, insomma, bisogna un po' studiare un po' di ortoepia, cioè il modo corretto di pronunciare le parole, di non far sentire l'accento dialettale, la cadenza, come dire, la cantilena nella voce, la sintassi... Noi ne sappiamo qualcosa. ...nelle varie frasi, tutta una serie di accorgimenti che vanno studiati o se non li si studia, insomma, che vanno acquisiti man mano. Poi, insomma, bisogna fare una scelta anche espressiva, nel senso che bisogna fare... bisogna decidere come porsi. Cioè, leggere una poesia è una cosa, per esempio. Leggere un romanzo di 20 ore è un'altra. Edema di Renzi ha assicurato, cioè questa bellissima malattia di Edema, delle corde vocali, che si chiama Edema di Renzi. Ma non solo quello, perché c'è un romanzo di 20 ore e lo leggi in due mesi. Esatto. Per realizzarlo si vuole due mesi. Ma, come dire, il problema è che l'impostazione tua della voce, se tu leggi un romanzo lungo, deve essere tale che il lettore ti può seguire per 20 ore, non si stanca prima. Quindi, per tenere l'attenzione, tu non puoi recitare troppo. Se tu reciti troppo, diventi troppo, come dire, hai una lettura troppo attoriale, troppo da... Così, insomma. In genere, porti poi l'attenzione su di te rispetto all'attenzione che porti sul testo. No. E invece deve essere comprensibile il testo. Anche gli attori, che fanno molte pause per evidenziare determinate parole, ho esperienza, ho fatto un po' di teatro con l'Ordine dei Medici di Pado, ma... E quindi con un regista, così, insomma, ecco, quel tipo di cosa non lo puoi usare per una lettura lunga. Cioè, la sintassi deve essere molto chiara, la conseguenza tra le frasi, deve essere molto... Quindi, la devi pensare tu, l'intonazione, per esempio, La devi studiare di volta in volta e deve essere tale che possa essere seguita bene. Perché l'attenzione di chi ti ascolta deve essere su quello che dici, non su di te. E' un po'... Questo è un po' anche il vizio dell'interpretazione musicale di oggi, Di grandi... Anche di... Per cui si tende a esagerare sul virtuosismo e a far concentrare l'attenzione su chi suona più che non a mettere in rilievo la musica che si suona. Quindi bisogna stare attenti anche a questo. Poi, per esempio, quando si legge per i non vedenti, loro hanno bisogno invece di una lettura più veloce e di una lettura inespressiva. Completamente inespressiva. Interessante. Non mi lo seguo più, insomma. Perché, per esempio, ci sono anche tanti non vedenti che seguono il mio canale e che gli va bene come leggo io. Ma, insomma, loro non bisogna più di noi perché sono abituati ad ascoltare e ad andare direttamente al succo delle cose. E allora bisogna fare una scelta. Ci sarà chi ti dice che leggi troppo veloce, chi leggi troppo piano, chi chi dà troppa espressione, chi ne dà troppo poche. Queste cose sono poi molto soggettive e, diciamo, non si è creato ancora perché è passato poco tempo da quando ci sono gli audiolibri, insomma, no? Sì, è una cosa ancora molto diversa. Prima delle letture sceneggiate alla radio, così, ma, insomma, gli audiolibri sono una realtà che è diventata di massa calcola da una ventina d'anni, insomma, da quando esistono gli MP3. e quindi non si è creato ancora il gusto per l'audiolibro. Cioè, noi trasferiamo nell'audiolibro il gusto che abbiamo acquisito nell'ascolto degli spot pubblicitari, della televisione, dei doppiatori, di queste cose qua, che è uno stile che non sempre va bene per l'audiolibro. non so, io eri sempre per esempio qua, c'era Via Colvento che stava guardando la mia compagna, no? E mi dava molto fastidio l'ascolto di Via Colvento per quel modo di dire quel tipo di linguaggio. Mentre mi piace molto, come disseva lui, e anche io, anche questo mi avvisa ascoltare la radio alla sera, insomma, no? Ascoltare una lettura, una voce che legge o che racconta alla sera. Quindi, il modo stesso di comunicare della radio e l'audiolibro, insomma, diciamo così, appartiene più alla categoria dell'ascolto radiofonico, no? Che non ad altro. È un modo di comunicare più, 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 come dire, più dimesso, più insordina, che ti fa più compagnia, che ti accompagna e che ti entra proprio in maniera subito, ma non aggressiva. Mentre se tu ascolti il linguaggio dello spot pubblicitario così è aggressivo, insomma, no? E quindi bisogna trovare un proprio registro che comunque sarà criticato sempre da qualcuno, non andrà mai bene per tutti. Ma questo riguarda poi lo stile personale, insomma, che uno fa e una ricerca che può essere anche quella personale. Dicevo, la mia risente, insomma, credo, almeno, spero, che risente dell'impostazione musicale. per me la musica è stata un'esperienza forte, ho un figlio che è anche diplomato in violino, ci ha diplomato con un grande violinista, insomma, non so se lo conosce, si chiama Fabio Biondi, che poi era anche amico. e quindi, insomma, anche lì, cioè, con queste esperienze fatte, insomma, no, diciamo, anche sulla modalità di interpretare, ecco, la musica poi ti entra, insomma, no, cioè, la ricerca di interpretazione che fai, insomma, il lavoro che fai sulla frase musicale, sul trovare una nota significante, sulla cadenza, su queste cose qua, ti aiuta anche a cercare una musicalità all'interno della frase, insomma. poi spero che si senta, ma insomma, non è detto che si senta, però è il tentativo di una ricerca anche in questo senso, che diventa una ricerca personale da questo punto di vista, altri magari hanno un'altra esperienza, insomma. Però, per esempio, mi ha fatto piacere qualcuno che mi dice, ma finalmente qualcuno che non legge con quella cosa così attoriale da scuola di doppiazzo, insomma, no? Certo, certo. Soprattutto questo. Okran, prima di continuare la prossima domanda, proprio su due parole posso chiedere una cosa io? Certo, certo, certo. Lei ha parlato di audiolibri per non vedenti, adesso le dico questo, ma proprio su due parole, perché quando si tratta di patologie, di disabilità, un po' il dottore che in me si illumina, è quello che mi viene in mente proprio su due parole, è questo. c'è qualcuno che le ha chiesto di leggere anche libri tecnici come dei libri, lei è un neurologo, libri di neurologia, qualcosa del genere, o di anatomia, è proprio su due parole, se c'è anche la possibilità eventualmente di poterlo fare magari con libri vecchi, che adesso... Sì, ho avuto delle proposte di leggere anche per non vedenti, oppure di titoli che ne propongono in continuazione, in un canale di YouTube, insomma, la gente ti fa anche delle richieste di lettura. Io mi sono rifiutato di leggere per i non vedenti, nel senso di leggere in quei siti fatti apposta, dove trovi la letteratura per i non vedenti. Uno perché poi quella letteratura... cioè quei libri fatti per i non vedenti spesso sono libri letti male. Spesso, la gran parte, se tu ti scarichi insomma dei libri scritti per i non vedenti, ci sono anche dei luoghi dove li puoi trovare, io ne ho trovati insomma in rete, sono... spesso sono difficili da ascoltare perché in genere sono dei volontari che non... come dire, leggono così in maniera... e poi perché i miei libri sono gratuiti e quindi i non vedenti li trovano. Ah, ok, ok. Non c'è difficoltà, ma nello stesso tempo in cui vanno bene per i non vedenti, vanno bene anche per gli altri. Mentre nei siti tra l'altro uno diciamo uno di quelli che propongono che hanno libri per non vedenti è intitolato a quello che era un mio amico con cui pranzavamo sempre in ospedale insomma e che è morto in un incidente stradale e quindi insomma a Feltre c'è una produzione di libri per non vedenti insomma dedicata che si come dire intitolata a lui però insomma poi se tu vuoi accedere a quei libri devi dimostrare che sei non vedente cioè non sono liberi no allora io preferisco un sistema in cui è libero ci può andare il non vedente e ci possono andare tutti gli altri rispetto invece che a una situazione che è vincolata e che è nella quale come dire leggono soprattutto persone che non sono diciamo che non hanno una grande esperienza di lettura insomma leggono lettori che vengono normalmente volontari dalle case insomma che leggono così insomma e anche sì anche con strumentazione cioè poi ti ho detto ci vuole un minimo di strumentazione no se tu leggi con la cuffietta come con il microfonino davanti alla bocca così poi non pulisci quello che leggi non lo passi perché poi bisogna saper lavorarci un po' con un programma di montaggio audio devi fare la pulizia devi un po' migliorare per quanto possibile insomma la voce insomma cioè devi farsi del lavoro sopra di post produzione e lì non ti fa insomma e quindi non so ho trovato il giusto compromesso in un canale di youtube che tutto sommato non è poi il massimo almeno mi dicono no cioè che youtube non è poi il luogo adatto per gli audio lì il più adatto pare siano i podcast il podcast adesso non lo so ma ma io mi trovo su youtube eh spotify viene però io mi trovo bene su youtube perché poi ho come dire in questi anni si è formata anche una piccola comunità ci sono persone che sono amiche con cui si stabiliscono dei legami che ti seguono in continuazione e poi insomma così insomma diciamo che è la cosa che preferisco insomma preferisco poi appunto c'è stata una queste persone che hanno creato questo sito che si chiama audiolibri.org che compare abbastanza presto in radio subito dopo i grandi compare questo audiolibri.org dove sono non so un migliaio di miei audiolibri ma anche loro avevano creato un'app e quindi c'è una piccola app che si chiama audiolibri che pensa pochissimo che uno può mettersi sul telefonino abbiamo cominciato con un'app che si chiama KissTube e lì si ascoltano gli audiolibri insomma quindi li puoi ascoltare anche al cellulare molto facilmente scaricandoti una piccola app senza bisogno di pagare niente come paghi l'abbonamento quando vai su su Audible insomma che poi insomma sembra poco però secondo me 10 euro al mese per stare su Audible non so se li sfrutti perché non so quanti audiolibri in un mese poi uno ha il tempo di ascoltare soprattutto cosa ascolta no? perché se ascolti grandi romanzi sono impegnativi devi trovare una continuità di tempo di cose così e invece per esempio nel canale di Youtube tu fai delle proposte vanno molto i racconti per esempio no? allora un racconto uno se lo consume nel giro di un quarto d'ora un viaggio in macchina addormentandosi alla sera come dire tanti lavorando ecco molti ascoltano i libri molti artigiani ascoltano libri lavorando pittori che dipingono casalinghe che fanno i lavori di casa e ascoltano queste cose qua ma se è una lettura contenuta di un'ora un'ora e mezza uno riesce a completarla e allora un altro se invece è un grosso libro uno deve essere molto appassionato per per riuscire a finirlo altrimenti lo lascia lì lo cominciano quindi non lo so cioè per esempio in un canale come il mio ma come anche altri canali che ci sono su youtube di lettori di gente che legge si chiamano narratori ma non so forse eccessivo trovi tanto materiale che dura mezz'ora perché si è stati costretti a esplorare molto di più il mondo del racconto rispetto a quello del romanzo diciamo che pochi come me hanno fatto la pazzia di registrare non so il caramanzo i demoni i delitti e castigo i libri i promessi sposi i miserabili insomma queste cose in genere non le leggono oppure si legge un brano insomma io le ho lette per intero insomma così perché poi mi piaceva perché poi come dire quando cominci un romanzo ti viene voglia di arrivare alla fine insomma poi se lo fai in attenzione ti emozioni insomma è qualcosa che ti entra e quei personaggi sono anche i tuoi in quel periodo in quel tempo che dedichi a quella lettura poi scopri che voglio dire quando leggi un grande libro ti trovi delle come dire ma cavolo insomma cosa hai riuscito a scrivere questo qua è impensabile insomma è spesso una cosa una fonte di meraviglia di stupore quindi c'è questo godimento anche poi è quello che supporta la tua passione certo certo aspetta aspetta dottore molto interessante questo argomento che poi si allaccia anche al prossimo punto però prima di affrontare il prossimo punto salutiamo in chat ciao Ais ciao Blechi che ci saluta saluta anche l'ospite e poi scrive Blechi dottore natalizio che sfizio bene bene insomma c'è anche una chat accesa siamo contenti poi chiaramente ragazzi in chat se avete delle curiosità scrivetele pure che le poniamo senza problemi sono delle curiosità rispondo volentieri anzi gli stimoli sono benvenuti esatto esatto quindi se avete qualche domanda scrivetela pure e poi ci penso io a riportare tutto ah ok perfetto c'è una domanda di Blechi che dice signor Walter ho una domanda quali sono i tre testi che l'hanno formata? l'anastasi il romanzo più noioso della storia anatomia umana rispondo io per il professore il dottor Walter non ho capito quali sono e che mi hanno formata? quali sono i tre testi? ah i tre testi che mi hanno formato sì 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 oddio ho anche uno se ce ne è uno ci sono è difficile è difficile rispondere a questa domanda comunque se devo dire uno è Promessi Sposi uno è Steinbeck Furore che ho letto tre quattro volte insomma come uno è anche Moby Dick che sono delle opere mondo poi però ce ne sono ce ne sono tantissime altre insomma da Céline viaggio al termine della notte a a Carver per esempio no? i racconti di Carver come a Borges certo comunque Blechi scrive Formula meglio per arrivare al punto in cui è ora intendeva Blechi si è riscritto meglio la domanda quindi non so se valgono sempre i testi che hai detto prima forse sta chiedendo dei testi tecnici però non saprei cioè sta chiedendo per i testi tecnici oppure dei testi che mi sono piaciuti così tanto che lo hanno spinto poi ad approfondire ancora di più il mondo non so Blechi scrivici in chat meglio cosa intendi e poi riformuliamo la domanda comunque a questo punto potrei fare io una domanda sempre per quanto concerne il tema gusto qual è stato l'audiolibro più bello secondo lei che ha realizzato meglio qual è stato il libro che ha preferito leggere qual è stato il libro invece che più ha detestato nel momento in cui stava leggendolo ma ci sono dei libri che poi ti permettono anche di mettere detestato l'anatomia umana libro come libro libro come trasposizione in audiolibro perché insomma libro come libro sì anatomia non è stata proprio la in trasposizione in trasposizione l'unica bocciatura che ho avuto a un esame universitario insomma è stato proprio anatomia 1 la capisco la capisco tantissimo in cui mi hanno in cui sono stato rimandato però poi il mese dopo ho preso 30 adesso ecco è andato bene però la capisco tantissimo è proprio bello vedere queste queste situazioni che si ripetono col tempo quanto tempo è passato eppure oggi è attualissima la situazione comunque la domanda era qual è il libro che che ha preferito leggere nell'ottica degli audiolibri a quello che invece è ma sono dei libri che sono che sono delle scoperte delle emozioni che non conoscevi per esempio uno uno è stata fondamenta degli fondamenta degli incurabili di Brodsky è un libro è una specie di saggio su Venezia Brodsky amava moltissimo Venezia infatti è stato sepolto poi lì ed è un libro che racconta Venezia con una poesia con una con una grandezza di pensiero enorme un'altra cosa che è emozionante leggere è Pessoa il libro adesso mi sfugge il titolo il libro del questo libro di Pessoa anche insomma mi ha molto ma poi poi che so insomma quando leggi Miserabili anche quella è una scoperta continua insomma no è un'emozione sono dei punti in cui piangi sono delle cose che ma oppure sono dei libri che sono che sono liberatori che ti permettono di di entrare nel personaggio e di e quando quando questo personaggio poi è un personaggio ironico ma allo stesso tempo quest'ironia è piena di di un aspetto umano allora sono diciamo che uno dei libri che ho riascoltato in genere non amo riascoltare i libri che ho letto non li riascolto molto ma uno dei libri che ho riascoltato un paio di volte è stato un libro moderno che ho dovuto togliere che quindi non è più nel mio canale ma che quando ho letto mi sono divertito e mi sono divertito anche ad ascoltare ed è un libro di presta che si chiama Un calcio in bocca fa miracoli e la storia è poi di un anziano signore che vive in maniera allegra la sua vecchiaia insomma si diverte a rubare le penne eccetera insomma ha un amico che fa il salumiere ancora del vecchio tipo quell'amico buono insomma che quando va uno a rubare lui gli dà nel suo negozio gli dà gli dà si gira dall'altra parte per lasciarlo rubare che si mette in testa poi di far sposare due ragazzini di far trovare due ragazzini insomma che si vogliono insomma è tutta una storia anche molto divertente molto ironica insomma di questo personaggio trasgressivo allora è bello cercare di ricostruire l'ironia di questo personaggio e come lui si muove e questo mi sono divertito a leggere e mi sono divertito anche a riascoltarlo insomma bel libro anche se non non è il libro della levatura dei grandi però insomma è un libro divertente vivace come è bello leggere Philip Roth per esempio anche questi li ho dovuti togliere sono letti parecchi di libri di Philip Roth perché è grande insomma Carver anche Carver anche insomma i racconti di Carver sono anche una grande poi Carver bisogna spesso quando tu li leggi sul canale spesso i racconti di Carver non ti chieda ma insomma così va a finire così uno è abituato ad avere il racconto che si apre si chiude che ha un finale con una storia invece i racconti di Carver spesso restano sospesi devi capire insomma tu devi fare un lavoro per capire la vita che c'è dentro insomma come lui la racconta però però Carver è un grande bene bene poi in chat ci chiedono cosa ne pensa di Proust di Proust si e beh insomma chi si può pensare di Proust mica pizza e fichi qui ovviamente Proust è sempre stata una di quelle cose che hai voglia di leggere anche ad alta ho letto qualche brano di Proust proprio per scavare poi in una scrittura che è poi piena di come dire di frasi secondarie eccetera devi arrivare a quel punto attraverso tutta una serie di percorsi e poi c'è uno scavare nei percorsi della mente della memoria insomma il problema di Proust è il fatto che è difficile da farlo cioè io penso questo che non vale la pena farle un audiolibro se non leggere alcuni dei passi dei più famosi che ha scritto magari così insomma ma è difficile fare un audiolibro perché è di una spessore di una profondità per cui chi vuole chi ha diciamo chi ha il retroterra per godere di Proust se lo legge non ha non va ad ascoltarsi l'audiolibro insomma cioè è una scrittura che che pone la necessità di una riflessione di un'attenzione particolare per cui chi ha è attrezzato per Proust se lo legge non lo ascolta e quindi è inutile e poi c'è questa lunghezza lunghezza che è difficile da reggere insomma io sto già leggendo diciamo ho in etinere un'opera altrettanto grande che però è già più perché è suddivisa in capitoli che sono ed è L'uomo senza qualità di Musil sono duemila pagine scritte fitte fitte nell'edizione in Audi quasi duemila lui c'è stato trent'anni a scriverla ed è poi anche quella una rappresentazione di tutto il mondo prima della seconda guerra mondiale allora già quell'opera lì è un'opera che impegna quindi però è già più facile da usare perché ogni capitolo è a sé stante ogni capitolo pur avendo insomma una infatti anche quello è definito come un saggio più che non come un romanzo come un romanzo saggio insomma ma ma è possibile goderlo capitolo per capitolo e e ha un'altra anche quello una grande valenza insomma e mi diverte diciamo è già più divertente perché è pieno di un'ironia rispetto a Proust che invece è molto più riflessivo insomma molto più intimista in qualche modo sì sì esatto esatto Black infatti scrive certo Proust ti lascia qualcosa dentro che poi germoglia in seguito e ti porta a pensare e a riflettere anche dopo che termini la lettura sì sì sono d'accordo sono d'accordo bene allora io direi che possiamo voltare pagina e parlare adesso di un fenomeno sociale nel senso che io ho riflettuto sul fatto che in qualche modo ormai è risaputo c'è la famosa questione che in Italia si legge sempre meno no? un italiano su due non legge oppure insomma ognuno ha la sua statistica secondo lei quanto il boom degli audiolibri in qualche modo può dipendere da questo quanto può essere legato per meglio dire al fatto che la gente non ha più tempo più voglia di prendere un libro cartaceo aprirlo star lì leggerlo e quanto invece ascoltare l'audiolibro sia anche più comodo per certi aspetti o anzi utile tanto quanto leggere un libro perché gli effetti fisiologici sulla lettura di un libro questa è una domanda possono essere assimilabili agli effetti fisiologici di ascoltare un libro? ma non lo so intanto la premessa si legge effettivamente poco forse sì ma quello che come dire si legge particolarmente si legge molto di roba varia cioè quello che è venuto a diminuire drammaticamente è la letteratura di qualità cioè invece la gente legge molto di più come dire fantasy anatomia umana piccoli sad insomma perché quello che poi mi colpisce c'è tanta gente che scrive insomma cioè tanta gente che si improvvisa anche scrittore è un momento buono per esempio per le case di self publishing no perché tanta gente scrive un po' di tutto quello che si legge meno è la la letteratura importante insomma i classici quello che richiede un certo impegno una fatica e anche dei prerequisiti per poterla per poterla leggere questo sì gli audiolibri aiutano a diffondere la lettura sì nel senso che aiutano a sfruttare poi la gente da poco tempo perché non so io ho la sensazione che che stiamo sempre tutti impegnati e non si sa cosa facciano ma tutti quelli che contatti ti dicono che hanno sempre impegnati che hanno sempre da fare non hanno mai tempo quindi il tempo è la cosa che manca allora si tratta di sfruttare i momenti diciamo liberi quelli legati al viaggio al trasporto alla fase di addormentamento quando si lavora in casa quando si lavora ecco e quindi gli audiolibri aiutano in questo possono aiutare e secondo me sono un buon sostitutivo anche della musica che in genere si ascolta insomma sempre che non sia musica anche quella insomma che non sia musica di distrazione spesso si ascolta anche lì musica di distrazione ascoltiamo tanta cattiva musica assolutamente ci aiutano un pochino a colmare a sfruttare meglio quei momenti di vuoto insomma se uno va in macchina fa un'ora di viaggio per spostarsi in macchina ecco il tempo per ascoltare un buon racconto per ascoltare io mi ricordo che quando da Belluno facevo le consulenze ad Auronzo c'era un'ora di viaggio per andare a fare questa cosa qui avevo la mia cassetta con poesia insomma allora c'erano queste cassette a registrare poesia di Leopardi fatte da Gassman fatte da e avevo il tempo e mi piaceva ascoltare poesia durante quel viaggio insomma no in alternativa a Gabber che allora si ascoltava o a Tenko che so io quindi insomma in quei momenti l'audiolibro è molto è molto utile insomma ci permette di ascoltare cose che non avresti mai ascoltato ho un canale di YouTube molti mi scrivono che se tu segui il canale quindi vai segui anche le proposte che ti fa questo canale scopri e il canale fa delle proposte perché poi ci sono canali che non fanno proposte oppure che propongono Lovecraft insomma si fermano lì se tu segui il proposto tu scopri anche molta letteratura e scopri che ti piace quella letteratura alla quale non saresti mai arrivato da solo quindi questa possibilità che tu hai nel anche perché magari tu di un libro magari non sempre lo leggi tutto ne leggi un estratto allora uno sente quell'estratto e poi e poi capisce che magari ha la curiosità di andarsi a procurare quel libro no perché poi ecco un'altra riflessione che ogni tanto mi viene da fare no anche guardando quello che succede in Youtube tutti parlano di libri sai tantissima gente che parla di libri no ce n'è molto meno che i libri li legge allora come dire al giorno d'oggi siamo più abituati a parlare delle cose no a parlare di quel libro senza averlo letto cioè ci accontentiamo di molto poco anche di un libro di aver avuto un suggerimento e spesso si parla di libri si parla delle cose ma poi queste cose non le si usano non non si va in fondo a queste cose insomma no e questo è un po' un vizio secondo me del contemporaneo e allora invece invece che sentire parlare di quel libro insomma se tu gli dai mezz'ora di quel libro o l'incipit oppure un passo che tu scegli che è importante di quel libro in cui c'è allora uno sente quel clima sente quella cosa io mi ricordo che insomma la passione per i promessi sposi mi è venuta quando ero piccolo che ho sentito in televisione avrò avuto dieci anni leggere l'incontro di Don Abbondio con i bravi insomma da allora quella cosa e quel passo là mi è sempre ritornato insomma quindi una suggestione vera cioè di un passo di un libro di un brano insomma è chiaro non due minuti ma insomma mezz'oretta così insomma anche di un libro spesso ti ti incuriosisce su quel libro e ti porta a comprarlo perché da lì viene anche poi lo stile il carattere di quel libro insomma ti accorgi c'è qualcosa che ti tocca più di quanto ne senti parlare da una che ti mostra lì la copertina del libro ti dice ho letto questo stanotte vi do le mie cose di lettura insomma certo certo che poi diventa quasi simbolo nel senso che prendere un libro magari famoso e non aprirlo mai ma magari fare la foto condivisa sui social dove mostri la libreria col tuo magico standard è un qualcosa che sì socialmente può farti apparire come uno pseudo intellettualo però fondamentalmente non ti stai veramente godendo la lettura e poi immagino che sia anche legato al fatto che oggi tutti vogliono improvvisarsi scrittori molti youtuber comunque molti influencer hanno scritto libri di vario tipo a me viene in mente il mitico libro di ciccio gamer che è un libro un evergreen non so se il nostro ospite lo conosce però ha avuto grandissimo successo però ovviamente fino a che punto possiamo dire che quel libro sia non lo so una lettura importante poi vabbè adesso io non voglio fare una sorta di gerarchia per carità però è un libro ma io pensavo fosse un diario c'è presente il diario in cui tu scrivi compiti per casa io ero convinto che fosse un diario non so eh sì perché comunque non basta semplicemente scrivere un libro per essere un intellettuale o pseudotale perché comunque nel momento in cui c'è questa mercificazione del testo io non so fino a che punto ci sia l'aspetto culturale però vabbè a me piace comunque sentirsi degli intellettuali insomma no cioè la cosa importante è avere il gusto e saper capire e saper godere del bello insomma del bello che ti può dare anche una lettura come un film come una buona musica insomma il problema è che tanti scrivono e che tanti scrivono male che diciamo a livello di self publishing si pubblica molto di tutto perché non c'è una selezione no quindi non ci sono più queste cose qua con l'illusione poi ma spesso la gran parte di chi scrive poi in realtà non riesce a vendere quello che scrive no cioè ha la soddisfazione di dire ho scritto un libro ma poi questo libro è difficile che funzioni no però questa cosa spesso abbassa il gusto cioè man mano che tu trovi sul mercato delle cose adesso va molto i fantasy non lo so i ragazzini cominciano a leggere queste storie queste cose così allora quando tu sei abituato a storie che non hanno spessore che non hanno ecco poi il gusto si affina a quello e tu perdi anche la capacità di conoscere di riconoscere il bello che sta sotto invece a una a una scrittura a come è costruita una storia per esempio no a come dialogano i personaggi ai sentimenti che ci stanno sotto no quando i sentimenti diventano poi superficiali quando quando tutto è esteriore ecco poi diventa difficile e da questo punto di vista poi quando devi scegliere una cosa scegliere la cosa facile no che leggi così e quindi hai paura no ti viene difficile affrontare chi so io dei testi come come l'Ulisse di Joyce insomma no o leggere Iliot oppure proporre non lo so io ho provato anche a a proporre anche qualcosa di Joyce insomma qualcosa di Iliot ho letto anche La terra desolata ho provato anche a proporre Rilke per esempio no le leggie duinesi ecco queste cose qua poi insomma che hanno bisogno di riflessione hanno bisogno di stare sul testo magari le devi ascoltare magari ascoltare leggendo il testo meditarsi sopra non hai più voglia di farlo quando c'è la storiella così no che ti che ti prende senza tanto impegno insomma no e che ti fa viaggiare con la fantasia vabbè insomma purtroppo è questo cioè se viene meno il gusto si legge di più ma si legge male questa è una cosa che diceva anche Baricco mi pare ho sentito a dire in una conferenza non è vero che si legge meno si legge di più ma si legge tante cose che non sono letteratura insomma ormai si stampa di tutto e poca buona letteratura insomma certo certo abbiamo un po' perso il senso del bello quello sicuramente in chat ci scrivono leggere è un'attività immersiva oggi vedo un appiattimento generale purtroppo un po' in tutto dalla letteratura al cinema alla musica c'è una tendenza al prodotto cotto e mangiato ad una pigrizia forse e molte persone non si impegnano nell'interessarsi a leggere davvero un testo a comprenderlo eccetera sia un po' il discorso che facevamo prima in effetti certo certo non so dottore lei vuole intervenire a qualche spunto allora in primis mi ha incuriosito molto questa questione è quello che quindi un pochettino diciamo mi suscita dentro diciamo perché comunque stiamo parlando di tutta una serie di questioni su quando viene utilizzato l'audiolibro perché viene utilizzato l'audiolibro che l'audiolibro viene utilizzato da da molte figure professionali come Falegnami o le Casalinghe però adesso giusto una domanda lei più o meno mi sa orientare l'età dell'utilizzo di queste persone degli audiolibri perché mi incuriosirebbe anche sapere se esiste diciamo un riporto anagrafico su questi utilizzatori perché io mi aspetto che audible è il genere cioè l'età di che ascolta il mio canale per esempio è un'età matura e anche in genere perché poi lo vedo anche dal diciamo da quelli che perché molti mi chiedono poi l'amicizia su facebook una volta che si iscrivono al canale e quindi spesso è tutta gente che ha una formazione diciamo universitaria quindi è un'età diciamo ultra quarantenni ma spesso anche sessantenni o settantenni e che hanno una formazione diciamo di scolarità superiore la gran parte dei giovani invece sono molti ragazzini molti giovani che vanno su altri canali che leggono che leggono cioè in cui ci sono narratori e che raccontano c'è molta passione per l'horror per esempio per per le storie fantasy per l'horror per il terrore non so per tutti i autori e quindi questo è pure per i polizieschi anche perché c'è una moda un po' sotto sull'horror sul poliziesco a me viene in mente anche il fatto che per esempio uno dei libri più letti è Dan Brown che è un giallo sì e quindi insomma chi propone quelle cose là e lì per esempio le visualizzazioni sono maggiori insomma capisci che c'è un interesse per queste storie ma c'è un interesse per storie che sono diciamo tra virgolette leggere insomma ok chi arriva poi ci sono dei giovani poi non si può generalizzare ci sono dei giovani che vengono anche e che sono che hanno una grande intelligenza che hanno però insomma l'età media delle persone che seguono le proposte che faccio io che ritengo siano di una certa come dire riferite a un certo target sono hanno una certa età insomma hanno hanno una certa età certo certo non so Marti regista è vivo sono vivo sono vivo sono vivo come sta come sta cosa ne pensi di questa chiacchierata no penso che sia davvero interessante anche il fatto che io vedo nei commenti di Blakey che a quanto pare ha dei gusti molto simili ai miei per quanto riguarda le letture ha detto che adesso si sta leggendo il Simarillion e che si si vuole male perché comunque è un libro molto pesante da leggere molto infatti io lo lessi per il 20% e poi lo abbandonai ma volete un libro da leggere solo per il 20% e abbandonarlo ma ve lo consiglio subito è questo anatomia umana anche meno del 20% ve l'assicuro ragazzi ma sì ma sì comunque allora Marti io ti ho invocato perché se sei d'accordo se siamo tutti d'accordo aprirei il link quello dell'articolo del foglio che fa una domanda interessante su cui potremmo riflettere eccolo qua quello sulla domanda lo apriamo subito ok poi dimmi quando c'è che io non vedo cioè ce l'ho indifferita è un articolo piuttosto interessante questo perché è quasi una critica a quello che sta succedendo attualmente con audible storytelling ma anche con il fenomeno diciamo audiolibro in generale sì sì può essere interessante sentire anche il parere del nostro ospite anzi sicuramente perché piuttosto che insomma il mio comunque magari dottore se vuoi non lo so introdurre tu l'articolo dire tu dai ti lascio la parola allora sì introduciamo brevemente sì del foglio assolutamente sì è quello che faceva tutte le considerazioni così un po' sintetiche perché sul foglio ho trovato più più articoli che riguardano gli audiolibri no? tra l'altro insomma ecco un'altra cosa i giornali parlano di audiolibri così insomma però in realtà non ti sentono mai cioè voi siete i primi che mi che mi interpellano sull'acquisito audiolibri ci sarebbe anche molto di più da dire insomma ma anche proprio sul meccanismo commerciale ma in genere anche quando i giornali scrivono di audiolibri non so chi sentono chi ascoltano insomma e anche quando come dire poi segnalano i siti dove cercare gli audiolibri insomma anche lì spesso o sono malinformati oppure segnalano dei siti a volte che propongono delle cose un po' così insomma che hanno anche non lo so c'è l'impressione che non ci sia la curiosità da parte di chi scrive su questo argomento nei giornali di sentire anche il parere di chi fa delle cose insomma oppure di sentire un parere vario cioè di interpellare più persone che fanno queste cose insomma nessuno è mai venuto da me a chiedermi insomma qual è la così insomma la realtà di una certa di una certa cosa anche in radio parlano con gli editori dicono quanto sia importante c'è stato un po' un incremento delle vendite quanto sia importante la funzione degli editori quanto sia importante il libro nell'editoria eccetera eccetera a trovare però poi insomma nessuno cosa fanno poi quando tu fai una cosa gratuita e metti a disposizione un prodotto gratuitamente per la gente ti bloccano ti censurano insomma anzi ti mandano una diffida da parte dell'avvocato insomma nessuno parla mai del fatto che insomma tutto sommato come succede per i farmaci che dopo 10 anni un farmaco non gode più del brevetto e può essere messo alla disposizione del pubblico per un libro per poterne avere i diritti per poterlo intanto non te li danno i diritti per poterlo leggere farne un audiolibro anche gratuitamente in secondo luogo non capisco perché devono passare 70 anni dalla morte di chi l'ha scritto quindi voglio dire 100 anni da quando è stato scritto quel libro là e quindi alla fine se tutto va bene 100 anni se tutto va bene 100 anni se tutto va bene e quindi insomma ti tolgono poi la possibilità di mettere a disposizione tutti riconoscono che è importante mettere a disposizione far leggere la gente cioè fare sì che ci sia un anche adesso in età covid diventa importante per uscire dalla depressione leggere ascoltare allora però per far questo c'è un provvedimento che non costa nulla basterebbe soltanto adeguare una legge che invece di coprire i diritti per 70 anni dopo la morte dell'autore insomma ti desse la possibilità di sfruttare quei diritti per 10 anni e dopo il prodotto possa essere messo liberamente al mercato quanti libri vanno al macero ecco invece no insomma no allora si capisce che dietro c'è invece un come dire ci sono altre cose che non l'interesse per la cultura insomma no e anche si capisce che tutto quello che tu fai gratuitamente non è gradito ecco altre cose che succede in rete no in rete in realtà chi fa le cose gratis viene visto male dal sistema no toglie spazio a chi le vende no è vero e quindi insomma non è che tu fai le cose gratis e sei un benefattore fai le cose gratis e sei un rompiballe no e tra l'altro un'altra cosa che secondo me è importante da capire è che come dire tutti quelli che fanno le cose gratis e questo non soltanto ma anche quelli che fanno il software gratis per esempio che lo mettono a disposizione no anche quelli che fanno anche LiberLiber di cui si parlava prima anche per esempio chi mette a disposizione le partiture musicali che sono scaricabili gratuitamente lo faceva una mi sfugge in questo momento il nome beh anche questi tutti quanti chiedono un piccolo contributo chiedono un euro due euro di contributo perché anche per fare le cose gratis bisogna sostenere delle spese no la radio stessa dove lavoravo prima no non fa pubblicità si regge sulle offerte di chi ha delle spese insomma da sostenere allora se ci sono delle cose che funzionano che danno dei prodotti gratis queste cose con un piccolo obolo che non che non deve incidere sull'economia di nessuno però devono essere sostenute e questa è una cosa che sta succedendo un po' dappertutto allora c'è bisogno della gratuità c'è bisogno di qualcosa che possa però questa gratuità chi la usa non tutti ovviamente ma chi la usa deve capire che se vuole che continui ogni tanto può contribuire con un euro con due euro insomma a farla andare avanti perché comunque è giusto che uno faccia le cose gratis ma tutti quanti abbiamo anche voi magari per fare queste cose buone che fate probabilmente qualche piccola spesa l'avete no? certo e quindi queste cose vanno sostenute insomma proprio per avere per poter accedere a un bene insomma che dovrebbe essere tale sì che poi diciamo che allora posso capire che ci sono gli interessi economici per carità ci sono comunque tanti interessi dietro comunque il mondo del libro però secondo me è possibile trovare un compromesso perché comunque il mondo si è evoluto cioè comunque adesso noi siamo in un'era digitalizzata dove certe leggi certe normative ormai sono un po' anacronistiche e quindi è meglio comunque trovare degli accordi proprio per incentivare anche banalmente la cultura che in realtà banale non lo è per nulla basterebbe semplicemente interessarsi delle cose invece i grandi marchi magari vedono appunto che ne so la libera offerta di questi contenuti come un qualcosa che invece deturpa il surplus del fatturato insomma il profitto però appunto alla fine basterebbe semplicemente trovare un compromesso un accordo e tutti sarebbero molto più felici adesso sto facendo questo discorso a Natale quindi non viene non viene un raggio sentivo interpellare parlare degli editori fare grandi discorsi da parte degli editori delle librerie sulle cose chiedere contributi allo Stato di storie eccetera eccetera però voglio dire quando si tratta di fare una cosa che non costa niente per dare la possibilità alla gente di sfruttare queste cose qua non solo non la si fa ma si cerca di bloccare chi la fa insomma c'è un po' un'ipocrisia da questo punto di vista insomma c'è una contraddizione e beh certo vogliamo promuovere o no la cultura cioè ci lamentiamo che non si legge più va bene ma allora incentiviamo le attività come quelle che fa il nostro ospite se invece stiamo sempre lì a pensare ai piccoli interessi alle piccole cose che poi va bene ci possono stare però basta parlare basta comunicare un attimo e si troverà un accordo io non credo che sia così impossibile trovare una soluzione ecco e invece è molto è molto difficile cioè io avevo provato tanto per dire io avevo provato a contattare la Mondadori chiedendo di poter leggere ad alta voce un libro che era che è uscito nel 63 di Golding il signore delle mosche ho passato tempo al telefono ho passato ho aspettato di parlare con un direttore insomma con un manager del gruppo e mi ha detto di no e ho detto ma cosa bisogna fare per avere per avere l'autorizzazione a leggere questo libro per non correre rischi legati al copio mi dispiace ma noi non non diamo questa autorizzazione non diamo nessuna neanche comprandola perché intendiamo farsi noi il nostro audio libero no la stessa cosa un altro esempio banale Don Milani lettera a una professoressa l'avevo già letto eccetera eccetera ho detto lo posso pubblicare ho cercato di contattare la casa di Firenze mi pare così che ho cercato di parlare e mi ha detto di no no certo allora voglio dire anche un libro come quello di Don Milani insomma di lettera a una professoressa non la puoi mettere a disposizione del pubblico che è un libro tra l'altro interessante è l'espressione di un'epoca lo conosciamo tutti lo hanno discusso gli insegnanti eccetera eccetera ma non è che c'è un problema lo diceva un giornalista su prima pagina c'è un problema di adeguamento della legge alla situazione di adesso alla tecnologia nuova che che si è venuta a creare quindi alla modalità nuova ma questo adeguamento è reso impossibile dal fatto che ci sono delle lobby insomma che non che non vogliono che non vogliono che questo si faccia insomma hanno allargato agli audiolibri tutta una serie di diritti se tu vai su vedi come scrivono come fanno il contratto gli editori quelli su cartacee diciamo così loro si riservano anche di bloccare qualsiasi uso che si fa di quel testo compreso il fatto di leggerlo e anche gratuitamente no quindi non è così così facilmente superabile queste cose insomma dietro ci sono delle lobby insomma ci sono degli interessi importanti e quindi un mercato ecco sotto c'è un mercato che la rete in qualche modo ha reso vivace cioè ha dato un'altra opportunità agli editori di usare questo mercato che magari col cartaceo si rendeva entrava un po' in crisi insomma con la rete cercano di e quindi si mantengono ben stretti questi diritti insomma vero vero infatti Blake in chat dice meno playstation 5 più tre cani dai ci associamo al slogan più anastasi per tutti ragazzi meno playstation 5 di così non credo che si possa esatto 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 comunque dottore tornando all'articolo del foglio quindi non lo so introduca lei ci dica ma leggiamolo direi giusto un pezzettino vada vada allora un io cercherò adesso di alietarvi con la mia voce però ovviamente non è pari alla voce del nostro ospite io ci provo allora il foglio questo importante rivista speriamo che non ci blasti per il copyright di leggere anche questo cioè non vogliamo altri problemi di copyright non so se vi siete reso conto anche sui giornali non so è solo la mia impressione ma poco tempo fa cercavo di capire insomma su un giornale locale se si parlava della morte di un ormai sono un'età in cui molte persone della mia età vengono a mancare cercavo di capire cos'era successo eccetera e cercavo una come si chiamano un necrologio su questo fatto e anche questo necrologio perché era un mio collega che era morto poi a Roma su questo necrologio ti compariva la cosa che se non facevi l'abbonamento non potevi neanche leggere il necrologio cioè una volta anche i giornali li potevi potevi leggere l'articolo magari ti mattevano la pubblicità insomma adesso anche per una banalità banalità perché ma anche per una cosa che per un necrologio ti compare lo schermo o ti abboni oppure non lo leggi ed era l'unico luogo dove potevo leggere la notizia insomma come era stata data di quella di quella morte quindi anche i giornali hanno cambiato un po' politica insomma una volta si riusciva a leggere delle pagine di giornale pagando la pubblicità insomma assorbendoti la pubblicità adesso neanche più con quella o ti fai l'abbonamento oppure no almeno per molto non so se si possa generalizzare questa cosa ma in casi particolari l'ho trovata sì sì anche io ricordo di aver visto qualcosa del genere prego guadagnare sulla notizia della morte degli altri è abbastanza opinabile comunque chiede paga monettina per sapere chi è morto boh sono cose che lasciano un po' il tempo che trova questa cosa mi ha più chiaro colpito questo ma comunque questo il foglio intitola il suo articolo dicendo gli audiolibri non ti restano in testa storia di una polemica di cellulosa peccato che il foglio è scritto online va bene andiamo avanti pensavamo che sarebbero stati gli ebook a mandare in pensione la carta ma ci sbagliavamo il successo di nuovo formato di libro e le vecchie paure il foglio dice sostanzialmente pensavamo che sarebbero stati gli ebook che è una delle tecnologie di maggior successo degli ultimi secoli il libro sarebbe infine stata mandata in pensione dai libri elettronici che hanno fatto l'efficienza di potersi portare guerra e pace in un apparecchietto da taschino come può essere un semplice dispositivo mobile ma dopo un successo iniziale gli ebook hanno deluso non sono abbastanza avanzati o forse il libro temprato da secoli di evoluzione a essere ancora troppo funzionale per andare in pensione per subire lo stesso destino delle cabine del telefono ma mentre la polemica attorno agli ebook infuriava in silenzio faceva strana ecco un terzo formato di libro che nessuno immaginava avrebbe avuto successo il libro audio la parola che anziché essere scritta è narrata e negli Stati Uniti quindi la popolarità di questa cosa qua racconta dei dati è in aumento una cosa del genere esatto un 20% negli Stati Uniti mi pare siano i lettori contro un 4% ancora in Italia ah lei sa i dati qua effettivamente c'è scritto il foglio dice che in Italia i numeri sono meno precisi però comunque è un trend in aumento più o meno su tutto il mondo anche perché comunque con Amazon che sta sponsorizzando Audible penso che la cosa possa dilagare in maniera molto importante a livello mondiale sì non non lo so il discorso è che come dire queste queste forme l'ebook il libro cartazio e l'audiolibro in realtà non dovrebbero essere in alternativa dovrebbero essere complementari per conto mio cioè uno un libro che ama lo deve avere sulla carta lo può avere in un in un reader insomma in un Kindle che so io insomma no perché se lo può portare dietro se lo può rivedere facilmente insieme con altri mille insomma e quindi può andare e anche perché ha una modalità di lettura che è più facile a letto per esempio se io devo leggere spesso adopero il Kindle per leggere ad alta voce per esempio perché mi ingrandisco le lettere posso giro la pagina in maniera più silenziosa ci sono dei vantaggi che hanno gli audiolibri ovviamente cioè scusate gli ebook certo quando ci sono dei passaggi che sono anche dei passaggi epocali questi passaggi non avvengono da un giorno all'altro cioè gli ebook quanti anni sono che è fuori 10 15 poi un po' di più no prima c'erano dei reader molto più molto più empirici che funzionavano peggio insomma diciamo il Kindle non so se è fuori da 10 15 anni quindi e poi diciamo e poi anche l'ebook secondo me e poi scusate poi anche l'audiolibro l'audiolibro anche questo in realtà non dovrebbe sostituire il libro di carta è una cosa complementare molti per esempio ascoltano l'audiolibro e ti chiedono che traduzione hai usato perché lo ascoltano seguendo seguendolo sul testo no? è una modalità di ascoltare ma anche insomma una sensazione ce l'hai nell'ascoltarlo una sensazione ce l'hai nel nel leggerlo sono due momenti diversi e quindi insomma diciamo avere la completezza è l'ottimo cioè io non li vedrei molto in alternativa come ci sono musicisti i bravi musicisti capiscono la musica leggendo la partitura non hanno bisogno neanche di ascoltarla no? Glenn Gould la leggeva direttamente sulla partitura l'ascoltava dalla partitura ecco poi il fatto l'ascolto ha molte variabili dipende dalla voce che lo ascolti da chi l'ha letto non è detto che magari l'unica persona che ha letto quel libro ha una voce gradevole per te pochi ce ne sono come dire coprire con gli audiolibri tutto il mondo dell'editoria per quanti lettori ci siano sarà molto difficile insomma quindi non troverai tutti i libri che cerchi negli audiolibri ma dovrebbe essere una cosa alternativa è chiaro che in questo mondo dove in realtà cerchiamo sempre di fare meno fatica è meno fatica mettersi a leggere mettersi ad ascoltare in maniera passiva perché l'ascolto dell'audiolibro può essere anche una cosa passiva no? e quindi ci mettiamo in poltrona gli occhi chiusi e ascoltiamo leggere ci richiede invece un contributo più attivo quindi insomma non li trovo in alternativa insomma e puntare solo sull'audiolibro secondo me è sbagliato vuol dire puntare su una lettura più passiva in cui si subisce di più è come mettersi davanti alla televisione insomma e guardare un programma e stare lì passivamente insomma interagire di meno se invece in maniera complementare se io leggo un libro ma anche lo ascolto e riesco attraverso cioè l'audiolibro ti dà la possibilità di immaginare di più tu chiudi gli occhi ma chiudi gli occhi in maniera attenta e tu immagini quello che ti viene raccontato e allora fai lavorare il film te lo crei tu i personaggi te li guardi tu e qui hai uno spazio maggiore di quello che ti dà il libro che leggi la voce poi ti dà molte suggestioni in più se la voce ti piazza se la voce è gradevole se il racconto di quella voce funziona allora tu impari a immaginare in quella voce la voce dell'autore non tanto dei personaggi ma proprio parlo di Dostoevsky di Dostoevsky che narra però è una cosa in più cioè diciamo che dovrebbe essere una cosa riservata di più ai ai cultori cioè a chi come diciamo nel mondo della musica è riservata di più ai musicisti no è un'esperienza che chi ama la letteratura può fare in più l'altra cosa che ho notato è che chi ascolta gli audiolibri chi li segue spesso è abbastanza competente è un mondo di persone che ha dimestichezza con gli audiolibri cioè che quindi ha imparato ad ascoltarli a prendere confidenza con questo mezzo quindi è abbastanza un esperto di audiolibri molti sono esperti quindi ti fanno confronti con altri lettori con cose conoscono il mondo dell'audiolibro ecco quindi lo troverai più una cosa complementare che non una cosa alternativa insomma se no l'alternativa appunto è quella diciamo si ritorna nel mondo dei non vedenti no quanti ci sono fatti ci sono tantissimi libri fatti per i non vedenti no perché quelli non entrano nel mercato e ci danno l'opportunità perché quelli diciamo spesso non hanno io ho provato ma non riesco ad ascoltarlo non hanno la qualità non hanno le qualità e sì potrebbero essere sufficienti no perché il testo c'è tra l'altro i libri per i non vedenti riportano tutto riportano la notte di copertina riportano capitolo 1 pagina 2 la nota qua insomma sono anche diciamo più noiosi no perché quando si fa una di un libro così spesso io salto certe cose salto la prefazione vado direttamente al testo mentre sui libri sono molto più pignoli dal punto di vista e ce ne sono tanti ma uno non entrano nel mercato cioè non entrano neanche nel mercato insomma non entrano nella rete di comunicazione e due non hanno voci che ti suggestionano e chi ascolta gli audiolibri spesso si affeziona alla voce oltre al testo si affeziona alla voce c'è un rapporto se no è soltanto un ascolto passivo insomma che non funziona ma allora l'audiolibro ti dà in più questo ti dà in più una voce potresti anche ascoltare una voce sintetizzata no sono anche sintetizzatori vocali ma non funzionano è il rapporto che tu hai nel piccolo negozio con il commesso chi gestisce quel piccolo negozio che ti consiglia con cui puoi parlare e che capisci il tuo problema rispetto a quello che hai certo certo emerge anche l'aspetto umano sicuramente allora se siete d'accordo io affronterei l'ultimo punto a proposito proprio di voce esatto a proposito di voce perché l'ultimo punto è un punto simpatico diciamo così perché nel suo profilo lei aveva scritto un post quello sulla voce come biglietto da visita non so se ricorda sì sì ho stampato qui è un post che che viene da un libro scritto da un cieco da un non vedente insomma no ce lo può leggere così tutti quanti aspetta aspetta magari martino se riesci a mettere il testo eccolo qua così perfetto così possiamo posso non leggerlo anche da casa o da qualunque posto sia il pubblico allora quando si fa una nuova conoscenza l'elemento cruciale è immancabilmente la voce non smetto mai di imparare cose nuove sullo sbalorditivo potere della voce umana di rivelare la personalità nelle persone che conosco molto bene riconosco dalla modulazione della voce tutte le emozioni che normalmente sarebbero espresse dal volto stanchezza ansia eccitazione repressa e così via le mie impressioni basate sulla voce sembrano essere altrettanto precise di quelle ricavate dagli occhi c'è però uno svantaggio ed è che i miei amici devono parlare se potessi vedere avrei accesso anche al loro silenzio avrei modo di afferrare anche un messaggio non intenzionale grazie al mutare delle espressioni del viso e in particolare delle labbra e degli occhi invece nella mia condizione di caso ho accesso soltanto alle sfumature non intenzionali della voce spesso do cose di cui il parlante non è consapevole ma ciò avviene pur sempre in un contesto di intenzionalità ovvero entro la scelta volontaria della comunicazione verbale che l'altra persona a livelli se stessa dipende quindi molto più da lei che da me e questo lo dice ma no c'è ancora qualcos'altro da leggere la capacità della voce è di mettere a nudo l'io di una persona che è davvero stupefacente è intelligente la voce è dotata di colori vissealternolo vissealternolo luci e ombre contiene venatura di melodiosità umorismo calore precisione è dolce è gaia è mutevole oppure in altri casi è pigra annoiata indifferente o addirittura piatta in colore monotona la scelta dei vocaboli è povera ed essi vengono usati in modo impreciso e con scarsa sensibilità ora sono queste le cose che contano per me e lui qui ha perfettamente ragione secondo me cioè la voce poi tra l'altro insomma io credo che non ci sono neanche voci belle o voci brutte cioè non c'è una bellezza tipica della voce cioè la voce è il patrimonio che noi ci portiamo dentro anche di tutte le nostre esperienze passate e svela esattamente quello che siamo molto il limite che lui pone è che tu devi parlare perché qualcuno capisca dalla tua voce no mentre nella comunicazione non verbale basta che uno ti guardi io nel mio mestiere come dire sono abbastanza abituato a questo no perché quando uno veniva in ambulatorio tu prima della visita lo avevi già inquadrato da come apre la porta da come cammina per venire verso di te da come si siede dal fatto che viene accompagnato o no dalla velocità con cui fai i movimenti dall'ampiezza dei movimenti che ha dalla mimica del volto da come ti guarda quindi da tanti aspetti tu già ti fai già un'impressione che può già indirizzare un sospetto diagnostico di tipo neurologico per esempio tanto per stare sul mio mestiere quindi insomma l'aspetto non verbale e poi quello che dice e quello che non dice se parla se decide di parlare se non decide di parlare l'aspetto non verbale è importante e quindi mette in evidenza anche cose che che ma si accompagna anche all'aspetto verbale cioè a come parla come usa la voce no a parte tutti come dire le varianti patologiche della voce ma poi insomma la voce ti dice immediatamente se uno è tranquillo se in ansia se parla di testa se parla con la voce appoggiata se è rilassato se è emozionato se vuole tenere è nascosto qualcosa se è reticente insomma tutta una serie di cose la voce te lo rivela e quindi anche nel modo di leggere nel modo di raccontare se ti è amico o se ti è ostile no tutta una serie di cose nascono dalla voce insomma no e tu anche dal telefono no immediatamente ti fai l'impressione che quella persona è gradevole e ti senti affine a quella persona oppure ti senti lontano basta pochissimo insomma basta un'intonazione per per farti capire la distanza o la vicinanza e quindi la voce è una cosa importante insomma ci sono adesso io non lo so però ci sono delle cose che ti commuovono perché per esempio c'è uno che mi scriveva che è stato ammalato di covid con cui abbiamo anche fatto così dice io come dire mi hai salvato insomma finché è stato tre mesi in reanimazione eccetera eccetera io ti devo ringraziare perché insomma io mi sono sognato anche di te insomma quando stavo male quando ero in quella condizione eccetera eccetera un altro stesso di cui mi aveva chiesto di leggere qualcosa che aveva scritto la moglie poi mi ha ricontattato mi ha chiesto di leggere e mi ha detto guarda io a volte ho fatto pensavo di farla finita insomma se non l'ho fatto è fatto perché mi hai fatto compagnia insomma perché c'eri perché pensavo allora voglio dire questo è passato soltanto attraverso la voce perché non ci siamo neanche mai visti no allora se succedono queste cose adesso io ho citato due casi ma ce ne sono tanti che ti scrivono questo no allora tu capisci che c'è un bisogno di di trovare una voce che ti accompagna che ti sostiene che ti amica e tu lo senti c'è poco da fare insomma e questo passa e poi passa ancora di più attraverso le storie no perché siccome non si può parlare di cose personali no cioè non è che uno si racconta così però al di là allora le storie sono il mezzo con cui ti parli no e nelle storie passano le emozioni ma tu trasferisci anche le tue emozioni nella storia nella storia sei anche tu che la racconti no c'è il tuo sentimento c'è il tuo sentire insomma quando la storia è raccontata bene insomma no se no hai la sensazione della distanza no di quello che legge allora quando quando si fa la lettura scolastica come si legge si legge così quando si fa una nuova conoscenza l'elemento brutale mancabilmente non smettono mai di parlare cose nuove né lo sbalorditivo potere della voce umano di rivelare la personalità ecco questo è un pochino in generale il primo approccio che si ha con la lettura no che corrisponde è fatto tiro il fiato parto forte no ma quando non finisce il fiato la faccio arrivo al punto se non finisce il fiato e poi riprendo insomma da lì da lì in questa parte è una costruzione diversa insomma che è nell'entrare nel significato delle frasi e quindi dietro un significato c'è sempre un'emozione insomma c'è sempre un sentimento se c'è il significato c'è anche e questo ti dà in più l'audiolibro ma te lo dà in più oltre la lettura può essere che non ne hai bisogno cioè nel senso che può essere che sei già attrezzato con la lettura e la lettura è già tutto per te allora ben venga il fatto che tu leggi il libro ti piace la carta il profumo della carta come si dice va bene ti basta quello l'ebook reader è una cosa di comodità è una cosa complementare di comodità ma se tu vuoi andare sulla voce allora ti dà un qualcosa di più che ti dà un sentire un sentimento è una possibilità di immaginario cioè ti apre un immaginario che la lettura stessa non ti dà e su questo immaginario tu puoi lavorare perché allora sì sei rilassato sei disteso e ti metti al buio e guardi quello che succede te lo vedi davanti agli occhi molto meglio di un film ecco l'altra cosa io non riesco più a guardare ero un appassionato di cinema insomma voglio dire fino a 20 anni fa ero un appassionato di cinema adesso guardo molto meno il cinema perché riesco a immaginare molto di più spesso quando vedo film tranne qualche rara eccezione ma quando vedo film tratti da libri e spesso sono tra storie tratte da libri mi deludono perché l'immaginario era di un altro tipo quando loro me lo concretizzano questo che non succede se un lettore è bravo perché un lettore non si prende il tuo immaginario te lo amplia non so se mi spiego cioè non ti dà quella faccia ti dà una voce poi la faccia te la immagini tu e quindi il postaggio te lo costruisci tu la scena te la costruisci tu ed è molto più più interessante insomma provo a rimaneggiare quello che ha detto lei e poi mi corregge semplicemente il fatto che qualcuno te lo legge ti dà la possibilità di capire la soggettività del lettore ma non ti vieta di aggiungere la tua soggettività quindi tu stai sentendo l'esperienza del libro l'esperienza del lettore e anche la tua esperienza in base a quello che ti immagini è un approccio tridimensionale sì ed è una cosa in più insomma è una cosa in più non alternativa cioè non la penserei come perché è vero se tu lo ascolti solo un libro magari qualcosa ti può anche sfuggire insomma a meno che non hai la pazienza di ascoltarlo due volte forse un libro ti resta di più perché magari hai la memoria visiva sulla pagina ma se fai l'esperienza di tutte e due le cose e per questo secondo me non bisogna essere troppo legati a troppo cioè bisogna fare delle scelte avere dei luoghi delle offerte troppo vaste in cui poi alla fine ti disperdi e vai salti di qua e di là è un po' la patologia il vizio che abbiamo adesso questo dell'andamento saltatorio il surfing da uno stimolo all'altro mentre conviene secondo me avere una come dire una cosa limitata che ti garantisca sulla qualità insomma e su quella esplorarla fino in fondo magari leggere il testo e poi ascoltare la voce che ti piace di più insomma la voce a cui sei affezionato in genere la gente ci sceglie i narratori poco da fare non se li sceglie o uno non gli piace oppure gli piace magari si affeziona un mondo qua quello che interviene proprio perché la voce è una cosa così soggettiva così piena di qua la scelta è molto individuale cioè non c'è un valore vero dietro c'è una una scelta di affinità di ci può essere uno molto bravo che comunque non ti piace ci può essere uno un po' meno bravo che però senti che che ti tocca le corde profonde insomma no quindi questa è anche la cosa bella insomma secondo me cioè sì non è completamente d'accordo non è una questione tu puoi essere tecnicamente vocalmente bravissimo ma poi stancare annoiare puoi essere meno bravo e invece puoi puoi avere un sentimento che riesci a trasmettere a qualcuno che lo sa accogliere insomma e a quel punto lì quello si lega a te di un legame profondo quello che ha raccontato è bellissimo quindi assolutamente tu vuoi dire qualcosa no no sono rimasto in religioso silenzio perché era davvero affascinante davvero un bel discorso assolutamente poi il tema della voce non lo so a me piace particolarmente quindi davvero molto molto interessante molto molto figo trovo bellissimo il ciclo che si instaura fra la tua voce racconta le tue storie ma sono anche le tue storie a cambiare la tua voce ed è un ciclo di proprio che quando te ne rendi conto tu dici ah cavolo allora io sono la mia storia io mi evolvo attraverso le mie storie e la mia voce è lo strumento con la quale io poi non solo per esempio da questo punto di vista l'età è penalizzante no? perché insomma la voce ti cambia però dietro l'età cioè è un po' come come le lughe del volto no? chi è che diceva no? l'attrice no? che diceva io guai che me le toglierai con tutta la fatica che ho fatto per farmele no? cioè ci ho messo una vita a costruirmi le lughe cioè c'è la tua esperienza cioè c'è tutto il tuo vissuto dietro no? e c'è dietro anche la voce cioè il modo con cui parli con cui dici le cose e racconti la storia ovviamente in quel momento lì no? è raccoglie tutta l'esperienza di tutta la tua vita i dolori che hai vissuto le gioie che hai passato gli amici che hai avuto insomma c'è traspare è chiaro che è un fenomeno che avviene in maniera inconsapevole ma succede questo per questo certe voci anche di ragazzini certe volte sono belle armoniose però si sente che manca che manca qualcosa cioè che manca il vissuto e il vissuto è una cosa importante come appunto come nell'espressione non verbale insomma sono 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 d'accordissimo insomma cioè dietro a volte questo lo trovi anche per esempio io lo colgo anche nella scrittura cioè quando uno ti scrive una mail insomma no? senti oppure anche semplicemente un un messaggio un messaggio su facebook non lo so insomma no? ecco senti da come ha scritto quella cosa come ha scritto quelle due tre battute insomma senti anche lo spessore della persona che c'è dietro c'è poco da fare no? a volte insomma capita che ci siano delle persone che ti contattano la prima volta e così poi tu ci stai un quarto d'ora insomma ti scambi due cose e ti dicono grazie insomma mi è piaciuto mi ha fatto bene insomma sono riuscito a dire delle cose oppure come dire sono stato bene questo quarto d'ora no? ecco anche in questo succede insomma anche proprio nella scrittura nella voce certo ancora di più insomma quando tu anche semplicemente prendi il telefono e parli senti immediatamente insomma ti fai un'idea della persona che c'è all'irà insomma certo certo poi diciamo che oggi siamo in un'epoca in cui si usano gli smile l'emoticon quindi i nostri messaggi sono sempre sono spesso accompagnati da queste espressioni che comunque cercano di rendere l'idea del nostro messaggio che altrimenti potrebbe anche essere frainteso quindi sì 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 molto interessante questo discorso anche dell'animo che è celato dalle parole talvolta già ok beh io io sono abbastanza abbiamo completato tutti i punti Okran tu hai qualche cosa ti sa no no io non riesco più a vedere quante ore sono mio dio abbiamo fatto comunque un bel po' di sì 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 insomma è stata una bella chiacchierata è uscito fuori un bel discorso ma io ho anche magari non voglio parlare d'altro poi al fine si finisce sempre parlare di qualcosa no ma è bello così non va bene così però succede così insomma è bello che assolutamente alla fine le mie curiosità le ho fatte prima della live e adesso magari quelle cose avremmo dovuto registrarle eh vabbè sono segreti di stato quelli no esatto sì 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 no quando vuole venire ospite per noi è un immenso piacere anzi grazie per essere stato con noi grazie per aver accettato l'invito e un'altra domanda dal pubblico no non lo so vogliamo rispondere all'ultima domanda e poi concludiamo dai la leggo io dai un nostro scrittore uno dei nostri follower ci dice è importante aver studiato il follower il follower esatto d'eccezione è importante aver studiato recitazione per rendere meglio una lettura di un audiolibro però un pochettino l'abbiamo detto prima no non è importante non è importante aver studiato recitazione io non ho studiato recitazione è importante una questo non è cioè spesso allora è un po' come succede con la musica no ci sono musicisti che non che non si sono diplomati che non hanno studiato no Bollani è un esempio per esempio di uno che non è uscito dal conservatorio ciò non toglie che non sia un bravo pianista spesso la scuola ti determina un atteggiamento e ti blocca cioè ti blocca se hai tu delle potenzialità se non hai nessuna potenzialità allora la scuola ti dà l'impostazione insomma no cioè ti dà le premesse ma se hai delle potenzialità quello che è importante più che non la scuola che poi tu cerchi sempre di riprendere quei canoni di ripetere i consigli fai fatica a rimuoverli completamente no quando te li hanno dati quello che è importante è l'orecchio è l'ascoltarsi come nella musica cioè tu è chiaro che all'inizio quando tu registri una cosa e poi te l'ascolti a tutti a tutti penso no è capitato questa esperienza di registrare e di sentire la propria voce e di dire che schifo no non ti piace eccomi sei abituato a sentire la tua voce in un altro modo dentro ti risuona in un altro modo poi quando la metti fuori trovi i difetti e spesso non ti piace no a me succede se canto per esempio se provo a cantare una canzone poi la registro e ci trovo tutti i difetti che magari all'inizio non sentivo e allora l'importante è costruire un un senso estetico e correggersi cioè ascoltarsi e man mano che ci si ascolta sentire i difetti e correggerli e e quindi quando si fa questo lavoro si trova che si cambia tantissimo nel tempo eh leggendo ma questo non lo dico sentivo anche un altro live di un altro lettore insomma che anche lui osservava insomma che nel tempo era cambiato molto no lui è molto più giovane di me insomma no ma riascoltandosi nelle registrazioni tre o quattro anni prima sentiva molto diverso e quindi si cambia cambiamo nel tempo se abbiamo questa capacità di ascoltarsi e di metterci in discussione quindi dobbiamo anche metterci in discussione capire i difetti insomma no sentirli capire e volerli correggere e magari un po' alla volta uno alla volta ecco quindi più che non la scuola secondo me è importante questo se sentiamo la cantilena dobbiamo trovare un criterio per toglierla e non siamo contenti finché questa cantilena non non la sentiamo ridotta al minimo perlomeno se trasciniamo le finali dobbiamo fare in modo di chiudere bene la frase se sbagliamo gli accenti dobbiamo sentire se sbagliamo l'apertura delle vocali o la chiusura eccetera eccetera dobbiamo imparare a correggersi insomma magari continueremo a sbagliare ma sappiamo allora che è sbagliata non la facciamo più come se fossimo sicuri che è giusta e quindi questa è la cosa importante secondo me insomma l'abituare l'orecchio affinarlo e che sia un orecchio buono e correggersi certo certo bisogna imparare a educare il senso del bello poi chiaramente anche nelle sue sfaccettature anche più questo viene anche dall'ascolto degli altri è chiaro che tu ascolti anche gli altri su questa cosa qua tu ti affini ascoltando non solo te stesso ma quello che fanno gli altri dopodiché di quello che fanno gli altri scegli quello che ti piace di più o di meno e quindi un atteggiamento di imitazione c'è c'è no c'è sempre anche nella musica è così insomma io mi ricordo che uscivo dai concerti e quando sentivo che mi piaceva la prima cosa che correvo è il pianoforte poi stavo deluso cercavo di suonare quel pezzo insomma bene o male beh qui abbiamo Martino che è un grande musicista Martino cosa ne pensi ti ci ritrovi un po' in questo pensiero assolutamente sì cioè quando ti viene diciamo lo schizzo di replicare quello che ti piace eccetera poi provi a replicarlo e dici ma perché nella mia testa era più bello è normale inizialmente poi uno ci fa l'orecchio ci si allena eccetera e quindi riesci anche a plasmare una cosa bellina chiaramente se hai talento e attrezzatura pazienza è quella importante poi c'è il momento in cui uno no si deve fare il contento di questo non hai il massimo e quel massimo lo devi fare io insomma no e quindi esatto bisogna essere capaci di fare autocritica quella è la cosa più importante magari senti anche il parere di altre persone comunque però l'autocritica è la cosa più importante in genere ecco sì insomma più che non ascoltare cioè devi selezionare anche le critiche che ti arrivano no esatto ti ascolti tutte le critiche a questo punto no quindi e questo riguarda la sicurezza che poi hai di te no se tu sei sicuro di quello che a un certo punto a furia quando ti convinzi tu che le cose sei sicuro anche di quello che proponi allora le critiche capisci quelle che sono costruttive e quelle esattamente devi rifiutare insomma no certo anche perché magari molti semplicemente hanno il gusto di demolirti di annichilirti poi in realtà magari sei bravo semplicemente devi magari affinare qualcosa può capitare anche questo talvolta poi non è necessario che sei migliore no ogni tanto viene qualcuno e mi chiede ma io questa cosa qua l'ho sentita fatta da Gassman era più bella ma certo ma insomma io non mica mi fai confrontare con Gassman no è stupido insomma no la cosa divertente la cosa divertente è che c'era un periodo che girava questa cosa questa questa massima diciamo che se tu pensi di essere bravo a fare qualcosa in realtà c'è un cinese che è più bravo di te a farla quindi tu arrivi in una condizione tale in cui ti autodemolisci sapendo di questa cosa e dici ma io pensavo di essere bravo però non sono il più bravo anche se sei l'innovatore il primo a fare che ne so i salti mortali mentre fai il salto alla fune no c'è un cinese che è più bravo di te che l'aveva pensato prima di te e fa ridere questa cosa qua sì purtroppo ma credo sia anche poi il sistema cioè il sistema che vuol dire il mondo della rete no perché ecco da questo punto di vista quando io ero più giovane non esisteva la rete e tu facevi una cosa non avevi contemporaneamente immediatamente i termini di paragone i confronti no cioè tu facevi una cosa e quando questa cosa piaceva al tuo maestro se andavi a scuola o piaceva a te se la facevi così a pochi altri era fatta no ti bastava avevi già la convinzione che questa cosa funzionava adesso quando tu posti una cosa su youtube immediatamente hai confronto con tutto il mondo e con i migliori del mondo che hanno fatto in tempo reale allora a quel punto lì insomma fai fatica a reggere qualsiasi concorrenza no qualsiasi devi convincerti che ti basta che quello è il tuo spazio e lì insomma non e questo però è no cosa per cui secondo me questo ha portato sempre più a un eccesso di virtuocismo cioè di di dire guardate io quanto sono bravo e mi confronto con i più bravi rispetto alla volontà di scavare in quello che si fa e quindi come dire nel mio campo rispetto alla fedeltà al testo quello di dire guardate come recito bene no il musicista insomma rispetto all'interpretazione di Bach di fare tante note di fare oppure di scegliersi invece che i pezzi che sono meno virtuolisti di scegliere i grandi list e così via insomma cioè quello che gli dà più occasione di mostrare quanto è bravo lui no trovo questa questa cosa qua che è frutto di un mondo che ci siamo costruiti insomma credo non so cosa ne pensate voi ma sì sì beh sicuramente è anche un modo peculiare di essere figli della nostra epoca questo questo atteggiamento qui sono sono d'accordo ok allora se siamo d'accordo qui abbiamo raggiunto ragazzi le due ore insomma grande grande contenuto insomma due ore di grande spessore non l'abbiamo mai fatto non l'abbiamo mai fatto nella live così duratura che ci ha tenuto così tanto interessati però due ore di grande qualità sì io sono molto contento di portare nel podcast di pensiero contando contenuti così grazie ad un ospite come Walter Zanardi e io vorrei concludere con una citazione di Italo Calvino vorrei salutare tutti gli ospiti Italo Calvino che ci segue da casa esatto salutiamo tutti gli italiani magari delle citazioni visibili è una frase no credo che sia presa da una sua dichiarazione non so bene da dove si è estrapolata però è sulla lettura sul piacere della lettura quindi mi piaceva molto e quindi volevo concludere così Italo Calvino dice la lettura è un rapporto con noi stessi e non solo col libro con il nostro mondo interiore attraverso il mondo e che il libro ci apre bene e con questa io ringrazio tutti coloro che ci hanno fatto compagnia la chat grazie per le domande grazie Blackie grazie a Frank grazie a Alberto grazie a tutti ricaricheremo in questi giorni la diretta grazie a Walter Zanardi per essere stato con noi grazie a voi dell'ospitalità dell'invito è stato un piacere e niente buon proseguimento non è una solita siete stati molto molto carini molto bravi molto anche la vostra voce è molto accogliente ecco da ringrazio davvero grazie grazie è il miglior complimento che ci potesse venire esatto è una cosa che a me ha toccato quindi grazie davvero grazie speriamo un giorno magari di essere un decimo di lei grazie io spero di essere veramente un decimo ho apprezzato tantissimo questa intervista anche personalmente sì 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 bene grazie ci vediamo alla prossima alla prossima e voi di cosa vi meravigliate a presto a presto